oh cazzo chissà se mi segue oh che cazzo dove cazzo sei dove sei dove sarà finito pensavo di essere seguito oh cazzo oh cazzo ti piace la faccio no sveglia master di oh giamente c mi ha fatto un nuovo video e che me ne ho presso e dai niamo ha fatto un contest davvero sì e io sto dormendo e dai niamo ha messo anche un premio in palio sai una cosa se non vinceremo male e dai ha messo in palio un htpvr 2 con gaming edition più un po di pubblicità al canale del vincitore davvero salve a tutti ragazzi qui è master di in questo nuovo video e che è un video di risposta al contest di logicamente cimma che hai detto un concorso a cui possono partecipare tutti e il palio c'è vero dirà il mio collega si riuscendo e in questo concorso sono pochissime regole alla prima essere iscritti al canale di logicamente cimma e la seconda mettere mi piace alla pagina ufficiale della opage italia niente inoltre il video più c'è una domanda cosa ci fare cosa ci faremo con questo premio e il video più originale verrà pubblicato sulla pagina ufficiale della opage e riceverà appunto questo premio e pubblicità al canale purtroppo devo dare ragione al master di stavolta in palio in questo contest c'è un hdpvr 2 gaming edition ragazzi e anche un po di pubblicità per il canale del vincitore ma in questo caso una domanda un arduo quesito sorge spontaneo cosa ci potreste fare un hdpvr perché lo volete ma io lo chiedo direttamente a voi cosa ci potreste fare con un hdpvr registrare i gameplay coglioni potrebbe essere anche questa un'idea sì sì potrebbe essere una buona idea infatti è proprio quello che vorremmo fare noi quindi speriamo di vincerlo ma speriamo che di vincere questo concorso e appunto speriamo che logicamente cim e l'esponsabile della opage ci scegano e aspettiamo il risposto del concorso quindi ok allora quindi detto questo quello che abbiamo già detto speriamo di vincere l'hdpvr siamo tutti molto contenti perché tu parla perché tu parla di come parlano io sarei delle buone periodo a me giusto anche delle buone allora ok posso parlare spagnolo abbastanza spagnola no parlare francese no voglio parlare inglese no ascolare un paese no ok allora speriamo di vincere l'hdpvr ci auguriamo a noi buona fortuna ma auguriamo anche anche noi siamo sportivi e auguriamo buona fortuna anche agli altri che parteciparanno a questo contesto questo concorso quindi ringraziamo il nostro cameraman lele per le riprese e detto questo detto tutto noi niente ci salutiamo e ci vediamo con sempre ragazzi è cazzo sembri un orso che si druscia all'albero ma che ha poi fango Anche di primavera Le poste Levate sul certo Sveglia Master D Logicamente Jim ha fatto un nuovo video E che me ne frega Ma dai ha fatto un contest Non mi ricordo la battita Dai